Che dj vorresti essere? Intanto ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Questo è un video di domande più che di risposte perché ci sono tutta una serie di domande che è bene porsi per riuscire a creare la propria carriera per quelle che sono le aspettative e le proprie velleità che sono personali e diverse da ogni caso. Che dj vorresti essere? È bene chiederselo, è bene darsi delle risposte chiare, precise e mutevoli nel tempo. Faccio un esempio di un altro settore, tutti vorrebbero il ristorante pieno con la gente che spende tanto, ma è troppo facile, ne ho visti tanti fallire miseramente e dover chiudere dopo un periodo relativamente breve perché non avevano modulato le loro aspettative e si aspettassero comunque con un target medio alto di avere un afflusso continuo di persone senza una specializzazione così ben definita. E così come tutti noi dj vorremmo avere la pista sempre piena, il locale è figo, poter fare musica figa, poter essere un guest chiamato qua e la, guadagnare tanto, si ok, tutto al top, troppo facile, non è così la realtà, la competizione è molto alta, ci sono tutte le difficoltà oggettive dei locali e del mondo in cui stiamo vivendo e per riuscire a raggiungere dei livelli molto alti è bene avere degli obiettivi precisi. E allora è bene iniziare a farsi delle domande. Entriamo un po' dello specifico. Vuoi essere un dj che viene chiamato nelle discoteche? Vuoi essere un dj che lavora fisso in una discoteca? O vuoi essere uno che gira in tutta Italia? O perché no, anche oltre. Vuoi essere un dj da contesto generalista? O vuoi essere un dj che mette bella musica? Perché spesso le due cose vanno molto in disaccordo. Vuoi essere uno che ama far ballare e far divertire? O vuoi essere uno che sperimenta? Perché spesso le due cose vanno molto in disaccordo. E' bene cercare di conoscersi, di approfondirsi. E' bene cercare di valutare i contesti dove ti chiamano e perché. Non c'è una grande attenzione e profondità di pensiero da parte di chi organizza e fa direttore artistico. Ti chiamano per i motivi più diversi. Ti chiamano perché gli hanno suggerito magari il tuo nome e ti chiedono di fare quello che loro vorrebbero che tu facessi. Questo è normale. E allora te ti devi chiedere sono disposto ad accettare il compromesso? Sono disposto ad essere chiamato in situazioni in cui devo fare una musica che non mi appartiene? Sono disposto ad essere chiamato solo per motivo magari che ne so, di popolarità? E te lo auguro. Quando sei, ti ritrovi nel contesto più sbagliato? Sono disposto a prendere il fare il dj come un lavoro, come un altro? Quindi allora quello ti viene chiesto di fare lo fai? O allora cerchi di ottenere il più possibile sempre di più lasciando qualcosa per strada? Queste sono domande molto importanti da farsi. Ed è bene così misurarsi in ogni contesto ogni volta che ti trovi a suonare. E perché ti trovi a suonare? Cercare di avere degli obiettivi a cui tendere, cercare di individuare il proprio percorso, cercare di approfondire. Io sono considerato spesso un dj versatile e allora mi chiamano per le situazioni più diverse. Ma in certe situazioni mi sento quasi in imbarazzo quando sono in console. Allora che faccio? Prendo il lavoro perché magari è pagato bene oppure non lo prendo perché non mi piace il contesto? E se non mi piace il contesto con cosa lo sostituisco? Quali sono i contesti che mi piacciono e magari mi fanno anche vivere? E' bene avere chiaro in testa che dj vorresti essere, perché magari oggi non lo sei, ma lavori in una direzione piuttosto che un'altra. Cerchi di definirti, cerchi di essere sempre più conosciuto per qualcosa e non per tutto. Anche quando le persone fanno confusione, te riesci a far capire chi sei, cosa fai e perché. Prova a farti questa domanda e magari anche fammi sapere sia cosa ne pensi nei commenti, ma anche nello specifico che dj vorresti essere. E nel tempo poi ci seguiamo e ci diamo delle risposte su quello che vorremmo essere oggi, tra un anno, tra cinque. Fammi sapere cosa ne pensi e continua a seguirmi su Essere DJ Oggi.